Il Museo della Via Spluga e della Val San Giacomo propone un itinerario attraverso le vie dei Carden, dei percorsi trasfrontalieri molto affascinanti che valorizzano questi edifici di lunga data chiamati per l'appunto Carden. Il nome Carden è un termine dialettale che ha origine dalla parola romana opus gardenatum, che sta a testimoniare il metodo costruttivo tenuto dalla sovrapposizione di tronchi incardinati presso le estremità. I percorsi delle vie dei Carden offrono scorci di varia natura, a partire da residui di ghiacciai, cascate imponenti e maestose, valli scavate dall'azione dell'acqua, ampi lariceti e boschi d'abeti, che hanno permesso all'uomo della montagna di recuperare la materia prima per costruire questi affascinanti edifici. Venite, camminate, ascoltate, fatevi trasportare dalla poesia che questa natura selvaggia ancora riesce a trasmettere. Grazie. 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 Grazie.